Gianluca Corrado, benvenuto nel Posto delle Parole. Buonasera. Ed eccoci qua insieme con Gianluca Corrado per condividere il libro, la nuova pubblicazione intitolata Strabismo perfetto e altri racconti. Il libro è pubblicato da Marietti 1820, leggo nel risvolto di copertina che Gianluca Corrado, laureato in filosofia e lavora nell'editoria, ha pubblicato diverse raccolte di racconti, saggi filosofici, dove ci si trova meglio, più a suo agio, nella scrittura, nel racconto oppure nell'indagine filosofica? Allora, buonasera, rinnovo i saluti. Si cerca di muoversi in più direzioni, certamente la parte più congeniale è quella filosofica. Io dico che per una raccolta di racconti, per un'opera di narrativa, si tirano circa tre saggi, nel senso che per me è molto più facile fare tre saggi, come dire, di un'opera di narrativa, ma questa è una questione di formazione originaria. Detto questo, cerco appunto, come dire, di esplorare varie dimensioni e, peraltro, essendomi occupato anche di questioni estetiche, come dire, non è del tutto sganciato dalla meditazione filosofica, il fatto di tentare la narrativa. Ecco, c'è anche un qualche collegamento teoretico, diciamo, come se si passasse un po' dall'altra parte della barricata, dalla teorizzazione alla missa in pratica. Sì, perché la parola che abbiamo assenito poco fa è esplorazione, a proposito dell'indagine filosofica e qui è anche un'esplorazione, un'esplorazione di quello che si legge nei vari racconti da ogni personaggio e quindi è anche uno scandaglio filosofico e credo che sia anche una prospettiva, nemmeno sbagliata, leggere questi racconti con questa luce, Gianluca Corrado. Ma io penso, Livio, che, mi permetto di darti del tuo, no, dunque io penso che ovviamente quando si parla di una dimensione filosofica della narrativa, almeno nel mio caso non si tratta ovviamente di una dimostrazione a tesi, non si mettono in mezzo nomi filosofici, non si cerca di fare un'operazione di divulgazione della filosofia tramite la narrazione, ecco, almeno nel mio caso non è questo. Fondamentalmente se io dovessi identificare la matrice filosofica, il portato filosofico dei racconti, dei racconti che scrivo e del romanzo che sto finendo e prima o poi sarà spero pubblicato, è come dire l'interrogazione della possibilità della storia, cioè anzi di dare per scontato che una storia sia stata scritta, pubblicata e sia leggibile, ecco, una cosa secondo me interessante è capire se davvero quella storia poteva essere raccontata, se è stata raccontata conformemente a certe premesse, che poi magari rimangono come dire semi dichiarate, ecco, c'è un gioco collettore, per cui non è che si sciolga del tutto l'enigma. Quindi fondamentalmente è non dare per scontato che quello che leggiamo è venuto così come volevamo, è venuto perché è stato deciso di scriverlo, no, è venuto per una serie di congiunture di elementi, insomma, che in premessa non davano per scontato che questa storia potesse essere scritta e magari non è neanche stata scritta esattamente in base a quello che io volevo. Ecco, diciamo, quindi se il lettore entra in questa dimensione, il racconto in qualche modo non è uno scontato, ma può diventare un piccolo evento da indagare. Ecco, spero che sia un elemento di incuriosimento durante la fase della lettura supplementare. La lettura di questi dieci racconti, il libro intitolato Stravismo Perfetto, prende il titolo dall'ultimo racconto pubblicato in questo libro, ebbene dicevo queste dieci storie di vita, nella quale poco fa si accennava al carattere filosofico, ma qui sono dieci storie di vite, sono vite, potremmo dire, che le vite che non vanno dritte, no? Forse non esiste nessuna vita che tira dritto, una linea reta, anzi zigzagano, sono rapsodi che sono fragili e vanno incontro ai destini che non sono quelli, insomma. Sono delle vite anche disordinate, perché forse proprio le vite disordinate sono le vite che sono migliori di altri, in ogni modo quantomeno nel raccontarle. E sono vite anche sbagliate. E qui entro subito, se ricordo bene, nel primo racconto c'è una definizione importante su cui vorrei soffermarmi, Gianluca Corrado, perché chi sbaglia deve essere recuperato. Ecco, e qui entriamo già nel carattere della storia, e non solo della storia, ma anche del carattere dei personaggi. Beh sì, anche perché nella fattispecie del primo racconto, che è tutto un equivoco in qualche modo, che in qualche modo si scioglie alla fine, appunto viene, come dire, offerto un recupero, che poi bisogna andare a vedere se sarà tale. Volevo dire due parole però a corredo di questo sul titolo, perché Strabismo Perfetto nasce come una citazione, un riconoscimento aperto ad un racconto di Stefano Benni, che fa parte della raccolta Bar Sport, Il Grande Pozzi, dove a un certo punto c'è una definizione che ho sempre trovato geniale. Dice, questa ragazza era talmente strabica che la pallina dall'occhio destro, lui dice proprio la pallina la pupilla dall'occhio destro era passata nell'occhio sinistro e viceversa, così che alla fine aveva lo sguardo perfettamente normale. Che è proprio la consumazione di un paradosso totale, nel senso che lo sguardo era normale e nessuno poteva sospettare che si fosse compiuta una traslazione veramente completa. Quindi, ecco, questa è la testimonianza di come talvolta le cose possano sembrare in un modo e poi siano in un altro modo. E questo può valere anche per un principio di recupero, al quale io credo fermamente, però non so se tutti i recuperi che vengono promessi e magari vengono accordati sono davvero tali. Ecco, anche su questo, come dire, anche sociopoliticamente, se vogliamo tentare questa declinazione, ho qualche dubbio talvolta. Eh sì, perché poi parlare di racconti, o comunque di un testo scritto, parlare di qualcosa che esiste e da noi è anche molto semplice, immagino Gianluca Corrado, una stesura di questi racconti, no? Narrare e poi soprattutto far comprendere al lettore il non detto della narrazione. Ecco, credo che questo sia un artificio non da poco, su cui è facile dire, ma forse è molto difficile poi mettersi lì e scrivere nero su bianco. No, su questo sono assolutamente d'accordo, anzi ti faccio i complimenti perché captare al punto di non detto è difficile, così come in generale captare il niente è difficile, no? Perché chiaramente nella sua, come dire, costituzione completamente tarlata sfugge ad una fessa. Diciamo che forse in questo, oltre un, sicuramente direi un temperamento che è, come dire, è tanto attento a ciò che è imbattere, quanto è attento o cerca di essere attento a ciò che è inlevare, credo però che nella fattispecie ne abbia aiutato anche una sensibilità filosofica sul tema del silenzio, al quale per esempio ho dedicato un saggio incarnato nelle figure di Blanchot e Barth, questi due grandi critici letterari francesi, non solo critici letterari, insomma anche di più in realtà, però diciamo professionalmente di questo si sono occupati e che si sono molto occupati, fra le altre cose, nel ruolo del silenzio nella letteratura, quindi è, come dire, un po' l'equivalente del ruolo del nulla rispetto al positivo, rispetto a ciò che è essente, quindi da questo punto di vista direi che c'è una sensibilità personale, ma anche tecnica in qualche modo appunto all'individuazione o alla rabdomanzia, avrebbe quasi da dire, perché forse siamo più nell'ordine appunto di una intercettazione impalpabile di quello che appunto non è chiaramente attestato e va più un po' cercato, scommesso, indagato, secondo un tatone man, ecco no? Siamo nell'ordine, come dire, di questa forma di captazione, ecco. Mi è venuto in mente mentre parlavi, Gianluca Corrado, dell'inizio di un racconto, Mr. Donovan, spero di dire bene, quando dice che ogni volta che uno sguardo si posa su qualcuno, su qualche cosa, no? L'occhio del pittore riesce a vedere dei particolari che sono impossibili a vedere delle persone che non fanno quel mestiere e credo che sia anche un po' questo l'attività dello scrittore e Mr. Donovan con questa rappresentazione pittorica ne incarna proprio il senso vero dell'esistere, dello scrivere e in questo caso del gesto artistico, cioè della pittura. Sì, guarda, qui la cosa interessante, Livio, è che spessissimo il lettore, il lettore attento, devo dire, come nel tuo caso, ti fa notare dei particolari ai quali certamente tu non avevi necessariamente pensato, e attenzione, non dico non avevi pensato, ma non necessariamente. Per esempio, ora, citata così la frase sul riferimento alla pittura, effettivamente è del tutto conforme e consentanea a quello che abbiamo appena detto, no? Ma in realtà, certo, quando l'ho scritta non mi ero posto questo problema di armonizzazione, tantomeno di delegare alla frase un valore quasi programmatico dell'intera raccolta. Me lo fai notare che è quello che è bello, appunto, quando dicevo una sorta di trasmigrazione, di passaggio dalla dimensione riflessiva alla dimensione pratica, è che quello che hai studiato sui testi, hai molto meditato, ma sempre in una chiave, appunto, di pensiero, di meditazione filosofica, poi te la trovi addosso. Uno dei principi fondamentali dell'ermeneutica, appunto, dell'interpretazione, in questo caso, del testo è che il lettore ci mette del suo, no? Ce l'ha spiegato Ecco, ce l'hanno spiegato, come dire, tante correnti, appunto, filosofico, semiologiche, e qui te lo trovi, capito? Qui te lo trovi addosso, cioè tu in questo caso hai trovato l'emblematicità di una frase che io raccolgo, come dire, avendola scritta, ma non avendola così pensata come la restituisci te. Però il lettore a un certo punto, sì, noi lettori possiamo pensare, no? Secondo la nostra cultura, il nostro carattere, e via di questo passo, quello che abbiamo letto, però c'è anche un limite, no? E qual è questo limite? Perché questo è forse un'indicazione pratica per noi lettori. Questa è una questione, come dire, che ho veramente studiato, cioè nel senso una delle cose che ho affrontato tecnicamente in altri volumi, secondo altri sentieri, è proprio in qualche modo quello che Eco chiama il limite dell'interpretazione, cioè pur sostenendo che l'opera è aperta e quindi che l'apporto del lettore, quello che abbiamo appena detto, è del tutto, come dire, parte dell'opera, collabora all'opera, detto questo, non ogni apporto è, come dire, è tollerabile quanto altri, ed alcuni sono decisamente deliranti, è il confine che c'è tra, come dire, cooperazione, appunto rispetto all'opera, far parte dell'opera attraverso il tuo apporto del lettore, rispetto alla ricreazione, cioè se tu devi ricreare quello, ora semplificando, che diciamo sostiene un certo decostruzionismo francese degli anni 70, Derrida, ma soprattutto gli epigoni di Derrida, lui era troppo fine per incorrere in questo, ma gli epigoni talvolta vi sono incorsi, era appunto, come dire, l'eccesso di dire io ci metto quello che voglio nell'opera, quindi sono d'accordo con te, come dire, tecnicamente ci devono essere degli argini entro i quali, come dire, tu puoi strigionare la tua creatività e la tua libertà di interpreti, certo definire quali sono è questione molto ardua, soprattutto quando da scrittore ti poni il problema, perché dal punto di vista più epistemologico, diciamo, puoi cercare anche di dare una definizione della questione, una soluzione, ma come scrittore, come dire, devi accettare che alla fine il lettore possa davvero anche, in qualche modo, intendere una cosa molto, molto diversa rispetto a quella che pensavi di stare comunicando. E lì, in quel caso, l'autore non può far altro che arrendersi. Come sono nati questi racconti nel loro insieme? Luca Corrado. Allora, questi racconti sono nati in maniera, come dire, molto non rapsodica, per usare un aggettivo che opportunamente hai usato per le vie dei personaggi, quelle sono vie rapsodiche. No, in questo caso la raccolta è partita, diciamo, da un primo racconto e poi è andata avanti piuttosto metodicamente nel giro di dieci mesi, circa un mese per racconto, l'ultimo un po' di più, altri più brevi meno, eccetera. Sono nati secondo trame che venivano via via, ecco, questo sì. Per esempio, la trama che tu hai citato di Mr. Donovan, che peraltro ha una doppia esponenza, perché ci sono due Mr. Donovan. Diciamo, la storia in qualche modo si declina in due maniere diverse. Quella è una storia del tutto biografica, per esempio, personale mia. Cioè, io a un certo punto sento una canzone che mi piace totalmente e cerco di farmi pullare soltanto dalla musica, non dal testo. E quindi invento una situazione esattamente come accade al personaggio, al protagonista del racconto, Mr. Donovan, che immagina che il suo vicino sia quello che una canzone che ha sentito e di cui non ha compreso il testo e gli ha dettato nella fantasia. Quindi nascono, diciamo, da un punto di vista compositivo, secondo un certo ordine, ecco, non in maniera così genere-segolatezza. Geno non ce n'è, ma nemmeno la stregolatezza. Da un punto di vista, invece, di trama in maniera, seguendo l'evento dell'arrivo di un'idea, di una collaborazione che mi ha preso e che ho messo subito in atto. E questo libro ha una dedica su cui vorrei soffermarmi. A te, che profumi di necessario. Ora, questa parola necessario è straordinaria in questa dedica. Che cosa dice questa frase? Allora, qui, però, Giulio, mi devi consentire, essendo una dedica ad una figura femminile importante, però di non risolverla del tutto. Eh, certamente. Deve, ma deve proprio, ma non deve. Stiamo sulla soglia, non andiamo ora. Restando sulla soglia, c'è una doppia valenza del necessario, che in effetti confligge con il resto, perché in realtà la dimensione dei racconti, come ho detto fin dall'inizio, la storia poteva nascere, poteva non nascere, secondo quali condizioni poteva nascere, a quale prezzo. Quindi, se io dovesse indicare l'ordine ontologico di questi racconti, direi che è il possibile. In questo caso invece la dedica alla necessità, al carattere necessario della persona, dipende dal fatto che è una persona importante, che è una persona che si occupa di cose necessarie, di cose eticamente e politicamente importanti, quindi in qualche modo, diciamo, fa da contrapeso invece ad una mia dimensione, che in questo senso è, come dire, un po' più sospesa, ecco, diciamo. Non possiamo prima di chiudere questo, no, certamente, non possiamo chiudere questa conversazione, essendo qui nel posto delle parole, non citare i due racconti, libertà di parola, uno e due, perché lì la parola viene veramente lavorata in una maniera molto molto particolare, questo traghettare le parole lo scopriranno i nostri ascoltatori, i prossimi lettori in questo libro di racconti e sarà sicuramente un incontro molto particolare, come anche nelle altre scritture. Intanto, grazie Gianluca Corrado, ma prima di salutarci, qual è il libro che ti fa compagnia in questi giorni? In questi giorni è la rilettura del pendolo di Foucault, di Eco. La rilettura, eh. E come mai questa scelta? Beh, è un testo che mi è sempre molto piaciuto, devo dire. Tra l'altro io, come dire, appartengo al mondo editoriale, quindi ha anche quel tipo di ambientazione. Poi mi è sempre interessata la storia, questo interrogare possibilità, i limiti dell'ermetismo, di una visione metafisica che non era quella che sicuramente era di Eco, ma alla quale Eco evidentemente era interessato, del quale era curioso. Quindi ho deciso di rileggere dopo un po' di anni per capire se mi faceva un po' lo stesso effetto. Per ora devo dire, su alcune cose mi ritrovo come un po' di anni fa, su altre chiaramente diciamo alcuni gusti sono cambiati, alcune cose, quindi non mi pronuncio, ma continuo a pensare che sia forse l'opera di narrativa più importante di Eco sia questa. Il pendolo di Foucault di Umberto Eco, pubblicato dalla nave di Teseo, anzi ripubblicato dalla nave di Teseo. Grazie davvero Gianluca Corrado del tempo che ci hai dedicato. Grazie molto, grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori. A presto. A presto.